Sono per me abbastanza simili perché poi alla fine l'obiettivo è il solito, quindi noi sappiamo che troveremo una squadra forte, però sappiamo che l'abbiamo già affrontata altre volte e non siamo mai arretrati di un centimetro, quindi i ragazzi sanno che la partita sarà in equilibrio come tutte e del resto è che dovremo avere, come poi dico sempre, la lucidità alla testa, al cuore e alle gambe per andare oltre l'ostacolo con la certezza di non essere soli ma di avere una città intera a spingerci. Come faccio sempre insieme allo staff ci prendiamo ancora questa sera e domani per decidere, noi decidiamo sempre il giorno della gara, Puccino sta bene, sta crescendo, è chiaro che è stato fermo una ventina di giorni e si è rimesso in gruppo da poco, per me Mazzotta è una garanzia, Ricci è una garanzia, Norval sta facendo bene, Folo Runcio è il giocatore che sotto certi aspetti ci fa pensare un po' di più perché questa infiammazione a volte sta meglio, a volte sta peggio e non è facile stabilirlo nei giorni precedenti, noi cerchiamo di gestirlo durante gli allenamenti per fare in modo che questa infiammazione non acquisca.